Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti in un altro video di Lasers Oggi giochiamo come Minecraft E guardiani e l'isola figa E niente guys, ora vedremo il da farsi Innanzitutto, cosa devo farvi vedere? Cod'è sta cosa? 46 diamantozzi Ho minato come una merda E ho trovato il todos Ho trovato anche le carote che ci porteremo appresso Va bene, a parte le carote e le barba di etore Che ho trovato nei campi di villager Ho perso uno stanch di barri Che non so come ragazzi E mi tira un po' il culo Perciò prendiamoci mezzo stanch E ci porteremo dietro Vaghe pecore e tutto il ben di Dio Pecore 482 o 500 No, 482 Allora guys, 482 Vi farò vedere il posto appena troveremo quelle fottute pecore E vediamo Eccole ragazzi, ho sentito un fottutissimo pe Dove siete i bastardazze Oh, fottutissima pecorella Lo vedi il grano, lo vedi, lo vedi Venite, venite Venite pecorelle Me ne bastano due pecore con gli occhi storbi Allora, ora dobbiamo tornare indietro però La retta via Oh, ti muovi Dai, eh Non è che c'ho tutto il giorno, Dio santissimo Venite con me Venite con me E certo che le pecore sono stupide, eh Aveva ragione quel pastore Che quella volta mi disse tutto ciò Piano, piano, buono, buono Tipo E fanno ciò che devono fare Pecorella, teni un po' Facciamo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 e 5 E concludiamo Boom, è dentro la perla E anch'io Pecore recintate Alleluia Oh, andiamo a prendere i porcellini Finalmente sono riuscito ad installare Forest Che in molti me l'hanno chiesto Fai Forest, fai Forest, fai Forest E' un attimo E' un attimo Ho appena iniziato a fare lo youtuber Cazzo Tra virgolette mettiamolo Mettiamolo tra virgolette Allora Le mucche mi servono, no i maiarozzi Le mucche E le mucche in sostanza Stavano sempre dove erano le pepre Non voglio dire cavolate Vagianate O ciò che sia Ragazzi A due passi quest'anno A due passi Allora Vediamo Vediamo un po' Tre Tre mucche addirittura Queste ragazzi Mi serviranno per fare La libreria Per fare un casino Cioè Porca troia Ma dimmelo prima Frati state qua Ma dimmelo prima Cioè ho fatto il giro del mondo In un'ora Altro che il giro del mondo In 80 secondi Io Solo un'ora ci ho messo In 80 giorni Che ho 80 secondi Coglione E qua Cioè Cioè Diciamo se ho trovato le pecore qua A due passi da casa Ma porca troia Quell'altro Io non ho Dai vieni fra Che ti do ammazzare prima Ricopriamo la mucca pazza La mucca E dai Dai Non è successo niente Se sto solo a trovare una casa migliore Dai Mangiate Fate quel che dovete fare Non fate tanto i porci E dai Ripopolazione La stiamo facendo Sii Che incanteremo poi e ci metteremo questo libro che è una veste ragazzi Andiamo a prenderci l'ossidiana Ci vediamo di sotto Giustamente un po' più pulito ci sta Però un modo più pulito Eccoci qua Ok iniziamo E dopo tre anni riusci a prendere un blocchettino No va bene comunque non ci vuole tanto ragazzi Dai non ci vuole tanto Andiamo guys Andiamo a casa e creiamoci questo enchant in tempo Ta 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 Enchantment Ok Ok 9 librerie ci siamo Possiamo già pensare dove stabilire questa enchant in tempo E io ho pensato laggiù ragazzi Che vi avevo detto l'altra volta Ovvero nella grotta vicino ai pollini Allora qua ragazzi Ho creato questa postazione Per chi mi sembra ideale Cioè stavo pensando cosa fare Allora guys Questa questo buco Questa buco nella parete E questo buco mi ispirano Ci creerò qualcosa di inerente all'ambiente E' in dio E' in dio E' in dio Avrà Avrà dentro l'acqua non corri eh bastardoz Morto ucciso Allora proviamo un posizionamento Tipo lo mettiamo qua da qualche parte Entri e ce lo mettiamo qua ragazzi Qua 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 Benissimo Benissimo Qui in questa zona Che tu hai Allora Fai conto Gradini di slab Entri qua Facciamo un'altra cosa Allora Scaviamo di uno E lo facciamo rientrato ragazzi Facciamo le librerie rientrate dai Ci sta Perfetto Questa è la nostra zona della libreria Uno due tre Qua c'è le chat in table Che poi ragazzi magari svilupperemo diversamente Oh Ta da 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 Un erai piccoli Perfetto sto anche testando le mie abilità con la spada Prendiamoci un po' di Andesite mi garba Mi garba Portiamoci anche questo dietro Vediamo com'è il confronto Un po' di questi incastonati magari Si incastoniamo un po' di legno Ci serve Un po' di coppia sto normale Mattoni Proveremo Ragazzi E' un ispiratorio Cioè faccio qualcosa a caso così Momentaneo Vediamo Proviamo Tanto solamente provandosi impara Ok perfetto Quindi arriviamo Mettiamo le nostre librerie qua Uno due tre Quattro Uno due Quattro qua Quindi ok Potremmo fare una cosa molto creativa Mettendoci in mezzo del Vediamo che alternativa ha Tipo Tu metti un po' di questo Magari con un po' di librerie a caso Ti puoi ispirare Tu fai una cosa del genere Con un po' di librerie E' pure a metta a caso Con qualche cesta Anche con guardate Tipo così La posizioneremo così Sopra mettiamo degli slav Ragazzi mi sta venendo idee assurde Ci può stare Ci può stare Perfetto E qua Attacker Rompiamo il totos Tipo tu metti una cosa del genere Ma rivientri Ti trovi tutto questo Si 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 Ok dai Per il momento una cosa del genere Potrebbe andare Doppio villarozzo di mattoni Di cobblestone Non è che mi ispirare tanto eh Abbelliamo il tutto con questa cosa qua Per me non abbellisce per niente Però proprio sti chassi Allora qua sicuramente scaveremo tutta questa zona qua E ci metteremo un po' di Un po' di questi incastonati Vediamo vediamo Facciamo una prova Cioè ragazzi che figata Arrivi Vedi questo è come se fossi qualcosa di rotto Una cosa del genere scaviamo al suo interno Pam pam Qua mettiamo un po' di abbellimenti Però adesso vedrete eh Dovete fare una specie di percentuale Tipo che ne so Un po' di cobblestone qua Un po' di pietra normale là Capito? Perfetto Qua ci mettiamo un po' di questa magari Sì si 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 ci può stare Qua non lo lasciate questo Non lo lasciate per niente affatto No questa 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 Anche qua Perfetto Ok guys Io entro e mi vedo questa cosa qua Precisa Perfetta e costante Arrivi e sbanch Dici what the fuck is that bro Ma che figata è fra Entriamo vediamo qui sopra Dici wow che figata Qui magari dovrò fare una piccola modifica Magari facciamola anche subito Pensatela così ragazzi Voi arrivate Wow wow Quindi qua il coso dici wow Che figuissimo ci sta Bene entri E qua è tutto da migliorare E nada guys Finirò qui il resto della struttura In AFK dal wrecking Ovvero da solo Perché ci devo pensare un po' Sennò diventa anche una parte molto noiosa Capito? Cioè dipende Se a voi piace Guarda voglio delle costruzioni In cui ci spieghi questa cosa Della desideri Delle strutture così Delle pavimentazioni E tutto il resto ragazzi Sarà una vera figata Ok F1 Eeeh Nothing guys Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi Commentate E condividete Condividete E condividete E non dimenticatevi Don't worry Become a subscriber guys Laser Hero Per chi di questo video Eeeeh Bye Bitches Eeeeh 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 Grazie a tutti.